Positivo e costruttivo, così il dirigente scolastico del liceo Gatto, Anna Vassallo, ha definito l'incontro tenutosi ieri presso gli uffici della provincia di Salerno. Ho trovato piena disponibilità ad accogliere alle nostre esigenze di avere una scuola più calda e funzionale e nello stesso tempo risolutezza nel disporre nuove misure per trovare una soluzione efficace alla problematica, continua il dirigente, intervistato telefonicamente. Al momento i funzionari della provincia hanno disposto a un aumento delle ore giornaliere di erogazione del servizio riscaldamento per entrambe le sede del liceo, fino a raggiungere il comfort più adeguato e rispondente a quanto previsto dalle norme. Naturalmente abbiamo convenuto che, considerata la particolarità dell'impianto di riscaldamento e il ripetersi ogni anno dello stesso disagio per gli studenti, sia necessario predisporre interventi mirati ad una soluzione definitiva del problema. Per questo è stato fissato un sopralluogo tecnico presso la sede del liceo scientifico in via Dante Alighieri per il 15 gennaio prossimo. Sono certa che con la collaborazione costante e professionale dei funzionari e dei tecnici della provincia riusciremo a trovare soluzioni adeguate ad un problema che si ripresenta ogni anno nelle medesime modalità. È necessario però cominciare ora e perseguire l'obiettivo, perché i nostri ragazzi hanno il diritto di vivere la loro esperienza scolastica in ambienti che siano quanto più possibile confortevoli e noi dobbiamo tutelare in primis il loro diritto allo studio in siffatti ambienti.